Verso la rimozione e il limite dei 50 km orari sulla Cilentana, l'ANAS sta programmando il lavoro che dovrà portare al ripristino della precedente segnaletica. Da un mese sull'importante superstrada, da Pestum a Policastro, si cammina a passo di Lumaca, creando enormi disagi alla circolazione. A lamentarsi non sono stati solo gli automobilisti ma anche gli operatori turistici che si sono visti annullare prenotazioni da clienti che non intendevano affatto rimanere in fila per ore sotto il sole nel tentativo di raggiungere la località balneare scelta per la vacanza estiva. La riduzione da 80 a 50 km l'ora è stata imposta dall'ANAS per consentire i lavori di messa in sicurezza della strada. Giovedì pomeriggio i vertici regionali dell'azienda hanno ricevuto il vicepresidente del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Cono Delia, che ha rappresentato i disagi che sta comportando il limite di velocità in questo particolare periodo dell'anno. Nel corso della discussione è venuto fuori che i dirigenti hanno riscontrato un errore nella collocazione della segnaletica da parte del personale incaricato. Secondo quanto riferito durante l'incontro, afferma Delia, i 50 km orari dovevano essere limitati al tratto Prignano-Cilento-Mignano, dove lunedì inizieranno i lavori di manutenzione. A settembre, aggiunge, si sarebbe dovuto estendere sugli altri tratti in occasione dell'apertura degli altri cantieri. Insomma, se tutto andrà secondo le previsioni, a breve sulla Cilentana si tornerà a circolare a 80 km orari. Farà eccezione il tratto Prignano-Cilento-Mignano, dove lunedì 8 luglio inizieranno i lavori per rifare la pavimentazione. L'intervento dovrebbe terminare il 19. Nel corso dei lavori l'intero tratto sarà interrotto al traffico dalle 21 alle 6 del mattino. Nella stessa fascia oraria sarà in vigore il senso unico alternato, ad esclusione dei festivi e prefestivi. Il vertice tra Anas e Parco è servito anche a stringere pacchi utili al territorio. Firmeremo, afferma Cono Delia, una convenzione per la manutenzione della Cilentana e della Bussentina. In base a quanto stabilito, i comuni ed eventualmente anche le comunità montane si impegneranno a mantenere pulite le due arterie e gli stessi riceveranno un contributo economico dal Parco e dall'Anas per l'esecuzione dei lavori. È una convenzione, sottolinea il vice presidente del Parco, per il decoro e la sicurezza delle due superstrade che conducono nella nostra area protetta. Intanto per far fronte all'emergenza in corso, l'Anas ha affidato i lavori di manutenzione ad un'impresa che a breve provvederà a liberare dalla vegetazione e dai rifiuti sia la Cilentana che la Bussentina.